Buongiorno a tutti, stamattina intanto utilizziamo lo streaming, lo utilizziamo perché ho gradito fare un incontro con i giornalisti, solo con i giornalisti, in modo che stamattina gli diamo anche la possibilità, vi do a tutti la possibilità di fare anche delle domande, quindi cercherò di essere breve proprio per dare a voi poi la possibilità anche di fare qualche domanda, anche tenuto conto del fatto che non ci vediamo da parecchio. Io intanto stamattina questa conferenza con voi è incentrata sostanzialmente su quella che è la trasparenza e la legalità che noi abbiamo seguito per tutto il periodo della mia amministrazione. Siccome ci sono i fatti, ci sono nero su bianco, è per questo che io ho ritenuto opportuno fare questa conferenza stampa con voi stamattina, proprio per darvi, dopo vi darò anche a chi eventualmente lo chiederà, anche le copie di quello che dico. Noi per esempio abbiamo ricevuto dall'ANAC l'incarico di fare una gara per il comune di Acerra, l'ANAC, dico un attimo per chi eventualmente, anche attraverso lo streaming, l'ANAC è l'autorità nazionale anticorruzione, che è un'istituzione, quindi non è un'associazione, e quindi è preseduta da un magistrato e da altri magistrati che compongono l'ufficio anticorruzione. Noi da questa autorità abbiamo ricevuto l'incarico di fare le gare in fascia C, cioè qualcuno può pensare che la fascia C è una fascia minore, invece la fascia A si fanno le gare fino a un milione, la fascia B si fanno le gare da un milione a cinque, la fascia C dove è stato messo il comune di Pompei, quindi non l'ho messo io e né noi abbiamo fatto richiesta, quindi è l'ANAC, quindi questa autorità nazionale anticorruzione che ci dà questo incarico nella fascia C che in effetti è per cifre illimitate, non a caso, la gara di Acerra è per 35 milioni, quella di Capri invece è un project financing per 15 milioni. Come dicevo prima, oltre questo il Ministero di Giustizia che tra le tante cose che dice in questa nota che ci invia per fare una convenzione con il Tribunale di nostra competenza e quindi col Tribunale di Torra Annunciata e quindi il Direttore del Ministero fa questa nota, la scrive al Sindaco del Comune di Pompei e al Presidente del Tribunale di Torra Annunciata, il Dottore Ernesto Aghina. Tra le tante cose il Direttore del Ministero, in questo caso è una signora, quindi la direttrice reggente in questo momento, tra le tante cose dice sarebbe un onore annoverare il Comune di Pompei tra gli enti riconosciuti dal Tribunale in aderenza al percorso di legalità che da sempre contraddistingue la città. E questo è una delle tante altre cose che fa onore alla città, non è che fa onore a me e io sono orgoglioso naturalmente della mia amministrazione e non solo della mia amministrazione perché come sappiamo tutti la gestione delle attività, noi siamo un organo di controllo, siamo un organo di indirizzo, sia l'Aggiunta che il Consiglio Comunale, ma gli organi di gestione sono i dirigenti e quindi colgo l'occasione ancora una volta sempre per ringraziarli e complimentarmi con loro per la loro attività costante, per il fatto che tutti i dirigenti e funzionari, i ricompreso i dipendenti dei vari settori, in questo Comune non guardano l'orologio, io dico non guardano, veramente non guardano l'orologio. E per questo anche sui progetti presentati dal Comune di Pompei riferiti al PNRR e ce ne sono molti di questi progetti presentati, tutti andati a buon fine e non solo, per la rapidità e la velocità con la quale i vari settori si sono adoperati abbiamo ricevuto anche le premialità su questi progetti del PNRR. Abbiamo inoltre, credo che noi per questo ci freggiamo di essere tra i Comuni più virtuosi relativamente all'acquisizione e quindi all'affidamento che la direzione nazionale e quindi del Ministero dell'Interno che affida ai Comuni questi immobili confiscati alla Camorra, noi siamo tra i primi Comuni della provincia, della città metropolitana ad avere tutti, abbiamo sempre tutto ciò che abbiamo ricevuto, ci hanno affidato e non solo, noi siamo stati sempre ben lieti di avere questi affidamenti che sono ben utilizzati dalle associazioni e non solo, con le associazioni che gestiscono i ragazzi a voce del creatore che è conosciuta in tutta Italia, Alilacco che è una delle associazioni anti-racket e altre associazioni. Abbiamo sul parco, su quello che era l'immobile del clan Cesarano, forse addirittura proprio di Cesarano, abbiamo un progetto approvato per un milione e novecentomila euro dove faremo il parco, il giardino per bene e quindi anche lì stiamo a buon punto anche con l'affidamento, abbiamo fra giorni affidiamo anche un altro finanziamento del Ministero dell'Interno, cioè quindi chi eventualmente ci dovrebbe mettere sotto accusa ci affida ai finanziamenti, secondo quello che qualcuno in questi giorni sostiene naturalmente sui social che noi ritenevamo diciamo un veicolo nobile, invece purtroppo dobbiamo prendere atto con amarezza anche di nobile, sui social c'è molto poco e quindi purtroppo è così e quindi anche chi naturalmente indende la politica fatta in un certo modo crede di con questo sistema di accusare, calunniare con le calunnie e quindi con affermazioni gratuite contro questa amministrazione che quello che ha prodotto è ciò che vedete, tutti i lavori già affidati, Fonte Salutare, la Chiesa Madre nel cimitero, la Piazza Schettini, la Ex Pretura, c'è tutti questi lavori già ormai affidati anche a buon punto sono, io credo che alcuni di questi che ho detto comunque saranno pronti e quindi consegnati anche entro l'anno, riprendiamo la Fonte Salutare, riprendiamo il Pozzo, riprendiamo la possibilità di fare anche il termalismo a Pompei, io non so che altro dobbiamo fare, naturalmente tra le tante altre cose e questo l'ho detto spesso anche in Consiglio Comunale, noi riteniamo che il motore della nostra economia sono gli eventi, gli eventi che noi facciamo sono eventi che hanno, si caratterizzano diciamo ad un livello mondiale non a livello locale, per il livello locale noi facciamo la festa della città, facciamo altri tipi di attività, altri eventi ma gli eventi che noi ci proponiamo e che in questi anni abbiamo messo in piedi sono il motore della nostra economia, sono il motore e non solo dimostrato che anche subito dopo il Covid, questa pandemia che ha portato una crisi mondiale naturalmente da noi a Pompei, sentita di più perché noi siamo in ogni caso una città turistica e quindi è chiaro che questo per un buon periodo era una città deserta, non c'era niente, non c'erano nemmeno gli abitanti che camminavano durante il lockdown, non si poteva nemmeno uscire di casa come tutti sappiamo e quindi e anche da questo noi ne siamo usciti benissimo e quindi i nostri eventi sono tutti quanti finanziati dalla città metropolitana e da quello che è la tassa di soggiorno, una tassa di soggiorno che è una tassa di scopo, noi sappiamo tutti che la tassa di scopo poi bisogna rispettare lo scopo della tassa e la tassa di scopo, quale scopo può avere a Pompei? Lo scopo che noi riteniamo debba avere e abbiamo messo in moto è quello del turismo, ci siamo riusciti benissimo perché intanto anche per quello che riguarda il nostro santuario della Madonna di Pompei in quest'anno anzi l'anno scorso c'è stato un aumento di un milione di visitatori in più e quindi è diventato il primo santuario in Italia di quelli più visitati e per questo io dico altro che opacità o quali altri termini usano o usano chi naturalmente ha tutto l'interesse diciamo ad offuscare ciò che stiamo facendo. Io potrei andare avanti ancora per ore per dire ciò che stiamo facendo. La convenzione con il parco, cioè intanto noi nel parco il comune non paga. Per andare nel parco e fare gli eventi prima anche il comune pagava, noi col protocollo non paghiamo assolutamente niente. Il parco credo che costa 20 mila euro al giorno, quindi noi stiamo facendo gli eventi quest'anno addirittura li facciamo insieme al parco archeologico. Alle fiere del turismo andiamo tutti insieme con un unico stand dove c'è il santuario, il parco archeologico e il comune di Pompei. Io credo che questi sono dati elementi anche storici di questo comune. Io ci vivo da credo da quasi da mezzo secolo qua. Non sono nato a Pompei ma ormai lo sono da 46 anni stabilmente a Pompei. Io quello che vivo adesso non l'ho visto prima e quindi naturalmente un'amministrazione che in tre anni realizza tutta una serie di cose che si vedono. Fra qualche giorno, la settimana prossima, iniziano i lavori anche di questa piazza. La piazza che diventerà quantomeno di altri mille metri quadri in più. Quindi noi questa differenza o questo muro che c'è sempre stato tra il comune e il santuario, qua non c'è nessun muro, anzi noi lo chiamiamo sagrato tutto ciò che sta davanti al santuario, non diciamo se è proprietà nostra, è proprietà non lo so di chi. Questa è la proprietà, comunque tutte le proprietà secondo me sono del beato Bartolo Longo e della Contessa De Fusco che stasera abbiamo il centenario della sua morte per il quale comunque intitoleremo una strada alla Contessa, faremo tutta una serie di altre iniziative questa sera insieme al santuario e quindi per noi valutare, dare valore a ciò che esiste, a ciò che hanno realizzato gli altri perché nessuno si può prendere meriti, né degli scavi perché il merito è del vesuglio se vogliamo dare il merito a qualcuno. Qua il merito della costituzione della città non è addebitabile a nessun politico, quindi ebbene noi non stiamo facendo altro che tenere alto il livello di questa città. Io ho detto dal primo giorno bisogna ridare a questa città la sua internazionalità, io credo che gliel'abbiamo ridata. Grazie. Se ci sono domande Allora No, l'ingegnere non ci sta ma credo adesso tutto è PNRR, quello che ho detto naturalmente che è una fonte salutare che sarebbe la villa la piazza Schettini, il parco per bene, tutto ciò che ho detto praticamente prima sono tutti i progetti, poi aggiungiamo che oltre alla realizzazione di via Leipanto non so se lei ha visto dove c'è già l'isola pedonale abbiamo un altro progetto approvato che è via Roma, la via Roma è la strada che dal santuario va verso Torre Annunziata, quindi verso Napoli e così via subito dopo la via Plinio, tutta quanta la via Plinio fino ad arrivare a Porta Marina inferiore. Ci sono sicuramente altri progetti che non mi scorda? Ah poi abbiamo proprio approvato l'altro giorno un altro progetto dell'UNESCO che in questa stradina che sta alle mie spalle su via Duca d'Aosta che raffigurerà con delle proiezioni continue la città, quindi raffigurerà gli scavi e tutto ciò che esiste anche della città e che esiste del santuario. Tutti i progetti approvati, il palazzetto della sicurezza che è l'ex fretura, l'ex fretura diventa il palazzetto della sicurezza dove andranno vigili urbani, protezione civile e poi incomodato all'USL, all'ASL, gli diamo la possibilità di mettere la guardia medica e il 118. Il palazzetto dello sport è già finanziato ormai fra qualche giorno, fra qualche settimana, no però io ancora devo tagliare il nastro, fatemelo tagliare, il nastro di modo che poi diamo, è stata fatta tutta la consegna però la prima pietra la voglio mettere io, quindi taglieremo il nastro tutti quanti insieme e quindi metteremo anche la prima pietra, quindi anche il palazzetto dello sport la chiesa madre nel cimitero che non è stata mai e poi mai, la stiamo rifacendo da capo, quindi non solo, anche per i morti abbiamo fatto prevalere con il nostro regolamento la livella e quindi dall'anno scorso e quindi dal primo gennaio tutte le tombe man mano che si andranno a fare le esumazioni, man mano diventeranno tutte uguali. Quindi finirà chi mette la tomba verde, un altro gialla, chi la più bella, chi spende, diciamo, soldi inutili, quindi anche quando ce ne vedremo noi, non spenderanno molto, quindi metteranno il marmo bianco. Via Plinio mi diceva il presidente, intanto è insieme alla sovrintendenza, naturalmente poi è quello comunque il CIS praticamente con il ministero della coesione. Quindi abbiamo tutti questi progetti che abbiamo detto, tutti approvabili, tutti, non c'è un progetto che non è stato approvato. Ah sì, teniamo addirittura, bravo, le anticipazioni già degli accrediti fatti sulla nostra tesoreria. E poi un'altra cosa che adesso stamattina la posso dire, perché abbiamo fatto anche la delibera e quindi ci prepariamo subito dopo l'approvazione del consuntivo del 2023, ci prepariamo all'acquisto finalmente, quindi siamo arrivati all'acquisto del Sacro Cuore, che credo tutti quanti voi conoscete. Il Sacro Cuore è quel fabbricato, quell'immobile di cinque piani, di 15.000 metri quadri, che sta proprio a Piazza Immacolata, quindi di fronte all'anfiteatro, quindi di fronte a Piazza Anfiteatro. Quello sarà comunque un nostro fabbricato e quindi diventerà un immobile dei Pompeani, finalmente. Altre domande? Poi vorremmo scavare un po' pure di fare un po' di scavi anche qua intorno al comune, quindi vediamo un po'. Fra poco ci lasciano il Banco di Napoli, il Banco di Napoli si sposta, quindi anche il Banco di Napoli, che è il Santo, come si chiama? Il San Paolo e il San Paolo andranno via e quindi anche il San Paolo diventa museo. La parte del San Paolo, biblioteca dall'altra parte, Vigili Urbani. Il 9 luglio? Vuole sapere quando viene? Ma vuole sapere? Il 9 luglio? No, quindi lei già, vabbè l'ha detto ieri sera, quindi si preparano un po' pure chi naturalmente deve ospitare le persone che verranno a Pompei. E quindi, come lei vede, anche su questa domanda che ha fatto rispetto a ciò che è stato detto ieri durante il festival, cioè questo di per sé diventa motore dell'economia di questa città. Basta, praticamente, ecco, pensare. Sì, ma ci... Allora, diciamo, andiamo piano, andiamo piano. No, ma pure perché voglio essere corretto, siccome questa l'hanno detta, la sto dicendo, ma voglio essere corretta anche nei riguardi, diciamo, anche del direttore del parco, che abbiamo detto che poi faremo una conferenza stampa insieme per... Vabbè, 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 infatti il 9 luglio fa... Va bene. Altre domande, ragazzi? Allora, io, cioè, su questo... Devo dire che è chiaro che quando si fanno queste cose, io non è che le prendo con amarezza. Io apprendo con piacere che anche i parlamentari e i parlamentari fanno la domanda al Ministro per sapere se, naturalmente, è chiaro che i parlamentari, per determinati aspetti, forse perché non sono di questa zona, di questa area, cioè chi della Sardegna o chi del Piemonte, fa la domanda, è anche giusto che lui la faccia, questa domanda, perché non conosce il territorio, non sa, ma chi lo conosce, alcune domande, diciamo, che si fanno nelle varie interrogazioni, noi diciamo che molte volte sono anche fuori posto, ma che ben vengano con gli accertamenti per sapere ciò che stiamo dicendo, perché chi verrà a fare accertamenti o chi eventualmente loro chiedono che dovrebbe venire a fare accertamenti, che qua comunque per la verità io non ho nessuna comunicazione, come d'altronde si dice che non so chi della mia amministrazione avrebbe ricevuto comunque avvisi di garanzia, cioè a parte che l'avviso è detto comunque che è una garanzia, ma qua non ci sta nessuno che ha ricevuto un bel niente, quindi le cose sono quelle che vi ho detto comunque, gli atti sono a vostra disposizione, dopo le cose che ho detto comunque, ho detto a chi mi collabora, a chi eventualmente la vuole, vuole anche copia, comunque noi gli diamo copia di quello che il Ministero della Giustizia, cioè non solo, e avete da questo momento in poi, sulle cose che ho detto, tutta la possibilità di accedere agli atti e vedere comunque ciò che ho detto, se risponde a verità o praticamente facciamo, non a caso, voglio dire, stiamo qua tutti quanti proprio per dire quello che questa amministrazione sta facendo, ha fatto e sta continuando a fare, credo comunque nel pieno della trasparenza e legalità, poi io comunque non so altri tipi di legalità, quali dovrebbero essere, per esempio ieri ho convocato una riunione con tutti i consiglieri comunali sul PUC di maggioranza e minoranza, quelli di minoranza hanno deciso insieme di non venire, ma noi la riunione l'abbiamo fatto lo stesso, quindi noi non è che non facciamo il piano urbanistico comunale perché la minoranza viene o non viene, o ci scrive, fandonie per dire che non vengono, noi andiamo avanti così come siamo andati avanti fino adesso, poi noi con una buona parte della minoranza c'è stato sempre un dialogo, c'è stata comunque anche una forma di collaborazione con una delle forze che stava nella minoranza, oggi nel tempo è maturata, man mano è maturata la possibilità di una collaborazione diretta, abbiamo anche la collaborazione diretta di chi stava in minoranza e mi auguro che eventualmente, oppure gli altri, ma questo per la città, ma non per fare il piacere a me, perché per me quando eventualmente non c'è più il sostegno, cioè non c'è bisogno che cercano i numeri per andare dal notaio, me ne vado io. Questa è una città che merita gli amministratori che seriamente la mattina non vengono qua a fare salotto, non vengono al comune per lavorare, io quando vengo qua praticamente non riesco più a scendere giù nemmeno per prendere l'aria, perché comunque sono tante le cose da fare, poi questo naturalmente a me mi fa onore, essere il sindaco di una città come Pompei, che le relazioni, partiamo da Miami ed arriviamo fino all'Italia con la mattina qua, con le città che ci chiedono, che noi abbiamo rapporti con la stessa cosa di Odessa che sono state dette diciamo un sacco di fandoni, noi i prossimi giorni faremo, affideremo ciò che siamo riusciti a raccogliere e che certamente non sono quelle cifre che hanno indicato chi naturalmente cerca di sempre di offuscare il lavoro che questa amministrazione sta facendo e continua a fare. Ci hanno detto che non so 3 mila euro, abbiamo speso 230 e non ne ho erano, sono tutte cose per suggestionare la città ai cittadini, la maggior parte vivono la città così come voi vedete, una città che pure io avevo vergogna di dire io sono un amministratore della città di Pompei, perché avevamo comunque proprio di fronte al comune, il verde era diventato giallo, per non dire altro, la fontana era la pattumiera delle patatine, delle coca cola e pacchetti di sigarette, adesso comunque non c'è un filo d'erba, quando ve ne andate tutti, vedete se tra il marciapiede e l'asfalto come le strade, vedete se c'è un filo d'erba, se ci stanno mi mandate la foto, non ci stanno sicuramente, che è uno dei miei pallini. Altre domande? Sicuramente anche per questo noi prima di tutto i parlamentari non hanno fatto a me o a noi la domanda, l'hanno fatto alle autorità competenti e quindi saranno le autorità eventualmente comunque a rispondere su queste cose, ma già questo comunque dimostra che anche chi comunque la propone, propone una questione del genere, entrando addirittura in questioni che riguardano le famiglie, comunque i figli, nel caso specifico riguarderebbe proprio un mio figlio che avrebbe questi rapporti o avrebbe avuto comunque rapporti con la camorra, questo è quello che lei domanda più che altro per tutte le altre cose. Ebbene comunque è scritto, è scritto anche su questo eventualmente ti consegnerò, comunque visto che la domanda vi consegnerò a tutti e due, perché pure questo naturalmente è uno degli elementi che abbiamo messo nelle querele, perché poi non posso querelare certamente i parlamentari, ma quelli che hanno riprodotto questa cosa, tutti quanti li abbiamo querelati sia come amministrazione ma anche come fatto personale, dove ho inserito nella negli atti che abbiamo allegato che mio figlio per la verità su questa questione è parte offesa e tra l'altro non solo comunque è parte offesa, è stato comunque invitato a costituirsi parte civile. Cioè se uno era imputato o era diciamo colpevole di queste nefandezze che dicono, certamente non era invitato a costituirsi parte civile in un processo dove mio figlio è parte lese in quanto è stato rapinato, ma questo mi dispiace che proprio perché l'hai fatto la domanda naturalmente ho voluto rispondere, però credo che questa cosa non fa parte assolutamente di quello che fa l'amministrazione e non solo. La dimostrazione è che noi stiamo facendo, continuando a fare tutta una serie di azioni che dimostrano il contrario di quello che loro eventualmente vogliono fare apparire su questa amministrazione. Purtroppo non ci riescono, non ci riescono pure perché sì è vero che c'è pure chi si fa suggestionare, sta arrivando alla commissione, sta arrivando e c'è chi arriva e comunque sta arrivando alla commissione, diciamo che che deve fare la commissione, deve accertare le cose che dicono, cioè che praticamente a me mi fa piacere che le accertano, perché quelle che abbiamo fatto, queste sono le cose che vi ho detto, quelle che mancano, perché comunque praticamente non me le sono nemmeno segnate che cosa dovevo dire, che qua io stesso penso, penso che in tre anni di amministrazione, non voglio parlare degli altri, ma in tre anni se sì, comunque a volte non ci credo quello che siamo riusciti a fare, cioè io sono uno di quelli che fa politica da sempre, voglio dire, e quindi non mi ricordo che in tre anni o nei cinque anni di un'amministrazione si è decidi a fare, diciamo il 10% di quelle che noi abbiamo fatto in tre anni, anzi con qualche amico ha detto se sommiamo tutto ciò che è stato fatto, da quando è stato costituito il Comune di Pompei ad oggi, ciò che state facendo praticamente, che avete già fatto, cioè non raggiunge quello che avete fatto voi, questa è la città, verificare comunque, per verificare non ci vuole molto, cioè che cosa state facendo? Mi addebitano l'abusivismo edilizio dell'85, del 90, del 94, scusate, che ne so io? Cioè la cosa comunque, non so, della interdittiva antimafia, che ne so io? Scusate, io devo sapere l'interdittiva, che faccio il prefetto? Tra l'altro per quella interdittiva che loro parlano è un'interdizione ed un decreto comunque della prefettura di Padova che nomina i commissari, quindi il Comune non deve fare assolutamente niente, perché non dovevamo fare, infatti non abbiamo fatto niente. I commissari ci hanno dato un IBAN diversa da quella dove il Comune versava, diciamo, le somme del costo dell'igiene urbana, punto. Non so, la cosa delle luminarie? Le luminarie stanno le carte, meno male che i miei dirigenti, che io mi complimento sempre, ancora, diciamo, ancora oggi e per queste cose in particolare, che pure su questo, meno male che si sono accorti prima. Infatti noi a questa società, che pure aveva l'interdizione, quella delle luminarie, sono riusciti a saperla ancora prima che firmavano il contratto e quindi praticamente meno male che non gli abbiamo dato acconti, perché se no adesso mi hanno perso pure i soldi, quindi avevano fatto tutto l'iter per fare eventualmente rientrare comunque le somme che il Comune. Invece no. Chi ha suggestionato, ha scritto, ha fatto interrogazioni, eccetera, voleva sapere, queste sono le cose. Lo deve domandare alla Prefettura, ma quella di Padova comunque per quanto riguarda quello che dicevo prima e non solo quella di Napoli, per quello che dicevo dopo. Noi che accendiamo? Non abbiamo fatto niente. Diceva che la città non poteva rimanere senza le luci, senza alcun'illuminazione durante le feste natalizie, perché Pompei è una città che ha il suo carattere mondiale. Abbiamo fatto le luminarie, poi siamo riusciti, sempre grazie a questi dirigenti, a fare subito un avviso durante comunque questo periodo che stavamo alla fine di novembre e non so come hanno fatto, perché naturalmente anche queste società che lavorano per fare questi tipi di lavori, impianti, voglio dire ormai credo che non avevano più niente. Invece comunque abbiamo avuto anche i complimenti per quelle poche cose poi che siamo riusciti a fare. L'abbiamo illuminata la città, però quando l'abbiamo illuminata non andava bene, non bisognava illuminare. Ragazzi, vale tutto ciò quello che vi ho detto prima, questo è un cancellato, che è solo una perdita di tempo. Poi è una cosa che io devo dire la verità comunque, che faccio politica da decenni, non ho mai visto. Io pure sono stato nel tempo sia in maggioranza che all'opposizione a fare il consigliere comunale, qualche volta l'assessore e qualche altro comunque a fare il sindaco. Però io le cose che sto vedendo ora non le ho mai viste. Altre domande? Marco, tu stai a posto. Mauro, Mauro. Va bene, io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e io la cosa che vi chiedo è quello di essere sempre come noi, trasparenti sulle cose che abbiamo detto, che se ci sono altri chiarimenti, perciò vi dico sempre, se avete altre domande fatele, perché è bene che la città, la città e non solo la città, perché noi abbiamo poi questo onere di fare arrivare il messaggio anche oltre Pompei, non solo a Pompei, perché noi siamo interessati a che la città continui a vivere così come tra l'altro ci considera anche il Ministero della Giustizia.